La città di Campobasso ha colto il treno della memoria. Il treno della memoria è partito lo scorso 6 ottobre come prosecuzione ideale del viaggio del Convoio Speciale che nel 1921 trasportò la Salma del Milite Gnoto da Aquileia a Roma, un itinerario lungo 5.000 km sostando in 17 stazioni. Intensa la partecipazione, autorità istituzionali, militari e tanti giovani. Molti non conoscono questa parte della storia patria per colpa nostra e quindi siamo qui anche per rimediare a questa nostra colpa per raccontare loro questa storia, la storia di questo ragazzo, spesso della loro età, che fece tanto per l'Italia dando la sua vita. Quindi cerchiamo di raccontare in maniera attuale quello che avvenne per loro, per noi, per loro. Ci sono le foto di 101 anni fa con tanti italiani che si raccoglievano lungo il tragitto. Confesso, l'anno scorso ero convinto di compiere un viaggio tranquillo e invece trovare tutti questi italiani lungo il tragitto e ritrovarli quest'anno nelle stazioni più piccole, agli orari più impensabili, sotto la pioggia, fa bene al cuore di un soldato, di un italiano. E vedere che gli italiani sono sempre quelli. Per l'occasione conferimento della cittadinanza onoraria della città di Campobasso al Milite Gnoto. È un bel momento anche perché abbiamo tributato lo scorso anno la cittadinanza onoraria al Milite Gnoto, sulla falsarica di tanti altri comuni d'Italia. E quindi, insomma, sono giornate importanti anche perché la memoria, troppo spesso perdiamo la memoria o facciamo finta che le cose non siano accadute. E questa è una storia toccante che soprattutto va trasmessa anche alle generazioni più giovani, quindi la presenza delle scuole è sicuramente un momento importante. Fortissima la presenza delle scuole, anche per i ragazzi forti emozioni, per avvenimenti così lontani ma attualizzati. Momento memorabile che appunto ricordiamo tutti i militari purtroppo morti durante questo momento. E per noi è molto emozionante vivere ciò che avevano vissuto tempo fa. È emozionante perché è una cosa molto importante per l'Italia, per la nostra patria, quindi ricordare questi momenti di una nuova generazione è secondo me molto importante. Dirigente, tanti giovani presenti questa mattina. La storia riprende significato e c'è un legame con la patria che verifichiamo con mano. Un momento importante per tutta la nostra comunità, soprattutto un momento di memoria vissuta per tutti i nostri studenti. È davvero emozionante poter visitare questo convoglio e soprattutto per i più giovani sentir narrare una storia così importante quale quella del nostro paese, mentre possono anche vedere visivamente, proprio fisicamente e materialmente immagini, narrazioni di quello che è accaduto ai loro avi, seppure parliamo di pochissimi anni fa.